buongiorno che avete camminato stanotte? e la pesca? qualche pesce è la mia volta qualche piccolo pesce, qualche ora di pesce qualche ventello andiamo a vederli guardi qui è che non venga che vi faccio vedere ma è giusto un baietto avete fatto una bella pescata allora cosa abbiamo qua? qua abbiamo un paio di orate alcune orate quasi due chili un tiro poi abbiamo una scarrellata di salachi maggiori veramente bravi questi ragazzi se lo fa un po' di questa pescata che grazie un po' di questa pescata un po' di questa pescata un po' di questa pescata non so come figlie di mare figlie di mare perché le figlie di mare fanno mattanza 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 e qua chiudo ok ragazzi buon proseguimento e buona visca grazie grazie grazie